Sacrato in Italia dopo un avvio ostentato, ricordi Andrea, ha trovato poi spazio Rocchi in sinistro, Lazio in vantaggio 16 metri dal sinistro di Rocchi, Rete, Lazio in vantaggio Liverani, Inzaghi, una scianza, palla che finisce dentro con il gol di Rocchi Di potenza lascia passare Manfredini, Zauri, Zauri dentro per Rocchi, colpo di testa e Rete Colpo di testa vincente di Tommaso Rocchi, buon controllo, cerca il pallone al centro Per Rocchi, a confusione, e la Lazio in vantaggio Gioricade riesce però a girare bene, posizione di tiro, prova Filippini, sale di deviazioni Il tiro a Rete, il gol della Lazio, il gol della Lazio Liverani, poi Cesar, ancora Liverani In profondità per Rocchi, posizione regolare, Rocchi anticipa Tommaso, Rocchi Di Cagno, la gira in direzione di Bazzani, area di rigore, esce Antognoli Bazzani in mezzo, per Rocchi, la porta è vuota, e Rocchi va a realizzare Interno dell'aria, no no, Liverani dentro per Rocchi, Rocchi, pallonetto di Rocchi E Rete, Rocchi, Lazio in vantaggio Pallone servito proprio nella zona di Di Cagno che però non può agire Filippini dentro, Rocchi, area di rigore, posizione regolare, Rocchi Lazio 3, Livorno 0 Adesso, provviso ma nervo spreca ancora tutto, grande finta di Gianni Chedda Veramente un gigante il centrocampista della Lazio Ora il taglio per Rocchi, il pallone buono, Rocchi salta Pagliuca, Rocchi E la Lazio in vantaggio, grande azione Filippini, c'è uno spazio da sfruttare Filippini vede lo scatto di Rocchi, posizione regolare, Rocchi Il tocco e il pareggio della Lazio La finta di Rocchi, mette in movimento Seric, palla bassa ancora verso Rocchi C'è Panda e Vinaguado, un rimpallo, Rocchi difende palla, Rocchi E il pareggio della Lazio Voglio gestirla servendo Liverani, subito per Filippini Azione personale di Filippini che taglia tutta la difesa Va via Filippini, c'è Rocchi accanto, la palla è buona Rocchi e la Lazio in vantaggio Cesar, ancora comunque Biancazzurri Cesar in verticale, posizione regolare, Rocchi 1-1 Ora forse Carlo potrà giocare più tranquilla Anche dal punto di vista psicologico Ma attenzione a Firmani, cross in era di rigore Rocchi destro, rette 2-0 Rocchi Ancora di Canio, stavolta per Rocchi, scodella il pallone Rocchi, intorno la Lazio in vantaggio La palla è per Rocchi, la palla è ottima Deve uscire Santoni, l'impallo Rocchi, intorno al pallone della Lazio Inserimento di Gabò Gabò, c'è Rocchi Cesar Cesar Arriva il traversone, Rocchi in anticipo Tommaso Rocchi Ora Cesar, ancora in aria Cerca sempre spazio, lo trova, mette dentro Pandeva verso Rocchi Il controllo di Rocchi E c'è il gol Poi Durant si complica la vita La palla ancora in gioco Tommaso Rocchi Oddo poi dalla distanza cerca un tiro C'è un imbalzo su Rocchi Il pallone è buono Rocchi, Rocchi Sollecita Bonigai Dietro ancora per Oddo Arriva il cross, lungo Lungo Per Rocchi, giù al pallone di testa E la rete di Rocchi Ce la fa lo su Belleri Si prosegue per il vantaggio Oddo vai al cross sotto a bordo Rocchi Prego Lassi in vantaggio Rocchi, adesso ancora Liberani Vuole il parola dentro Rocchi, colpa di testa 2-0 Lazio Tommaso e Rocchi Pandeva sul sinistro La conclusione ribattuta C'è la possibilità per Ditali Il controllo di Rocchi 2-0 per Lazio Ancora Berani il controllo La conclusione con il destro Poi arriva Zauri Ancora un rimpallo Rocchi E c'è il gol Juventus ne ha creato il 3 Almeno nitide Ma adesso sta uscendo la Lazio Pandeva all'indietro Rocchi Tommaso Rocchi Berani per Pandeva Lo spazio per andare a punire Il Lecce con Rocchi La conclusione in gol Della Lazio Con Rocchi Berani su Oddo Ancora lo scambio fra i due La palla in mezzo Rocchi Con la punta del piede Ha giocato all'indietro Poi al limite dell'aria Prova Rocchi Rete Lazio in vantaggio Tommaso Rocchi Adora forse Carlo potrà giocare più tranquilla Anche dal punto di vista psicologico Ma attenzione a Firmani Cross in area di rigore Rocchi destro Rete 2-0 Rocchi Prova la sventagliata profonda Ricoglio biancazzurro Stato avete visto Rocchi 1-2 Poi arriva Budingai Insiste la Lazio Il Lecce basso Rocchi Abbiati Prodezzo Rete Vantaggio della Lazio Ma anche Svizzera Bellinzona E Portogallo Uniao Lera Attenzione Rocchi Area di rigore Rocchi sinistro Rete Mutarelli va a rubare il pallone a Pinzi Subito Mauri dentro per Rocchi Rocchi Prova il pallonetto Rocchi Pallo Ancora Zauri Rocchi Se ne va da solo Rocchi Ha saltato tutta la difesa Rocchi Rocchi Che bel gol Ledesma Mutarelli subito per Mauri La posizione regolare Mauri Entra in area di rigore Mauri in mezzo c'è Rocchi Il pallone è lì Rocchi Balla per Rocchi Di testa una direzione Rete Rocchi Pallone a Mauri Accelera Mauri L'apertura per Machinua in area Machinua Machinua Chiude Zaccardo Ancora Machinua Balla che è salita Rocchi Il tiro Fontana Ancora Rocchi Rete Rete Rocchi dal dischetto Parte il tiro Rete Il primo tempo Nel centrocampo della Lazio Mauri Attenzione a Rocchi Che va dentro Può andare All'interno dell'area di rigore Uno contro uno Rocchi La giocata In gol Riscettare C'è Rocchi Attenzione Mutarelli Ha chiuso Lucenti Tocco all'indietro Attenzione Se ne va Rocchi Rocchi 3 a 1 3 a 1 Mudingai Ha scambiato con Mutarelli Lascia partire il cross Dentro Rocchi Rete Gol strepitoso Di Tommaso Rocchi Invece Mauri Mauri centrale Ancora per Pandev Controlla Arriva Rocchi Come una fuga Servito Tommaso Rocchi Fisca Paparesta La rincorsa di Rocchi Parte il tiro 4 a 1 Per la Lazio Edesma che recupera Palla La mette dentro Per Inzaghi C'è Pandev La ribattuta Rocchi Il pareggio Della Lazio Parte Rocchi Destro 1 a 1 Rocchi Al limite dell'area Rocchi Rete 2 a 1 Ecco la rincorsa di Rocchi La battuta E il gol Ancora su Pandev Rocchi Posizione di Rocchi Buono 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 Bra Lazio che ruba il pallone Pandev Mauri In verticale Pallone per Rocchi Rocchi Possibilità Destro Rete Tommaso Rocchi Rocchi Buono il suo controllo Attenzione Il tocco per Makinwa Limite dell'area Ancora Rocchi Trova il taglio C'è Mauri Dentro per Rocchi Posizione regolare Rocchi Che gran gol Di Rocchi Dalla parte opposta Attenzione Perché c'è Rocchi In area di rigore Tommaso Rocchi 1 a 0 Rocchi Rocchi Invio di Kribari Verso Mekni Mekni Da solo Mekni Palla incollata al piede Un gioco di prestigio Il lancio su Rocchi Posizione centrale Regolare la posizione Rocchi 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 2 a 0 La punizione di Redesma Rocchi Tommaso Rocchi Bravo Rocchi Attenzione Ancora Rocchi Area di rigore Rocchi Gol Gol 2 a 1 Lazio Rocchi Palla buona per Pandev Ancora l'1-2 Posizione regolare Rocchi Tommaso Rocchi Ancora Rocchi contro Coppola E vince Rocchi ancora Parte Redesma Battuta tagliata La deviazione Amelia Poi Rocchi Mudingai All'Edesma Una deleazione Partito Rocchi 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 1 a 0 Siamo organti Parte Rocchi Il tiro Rete Lazio in vantaggio Edesma in verticale Rocchi Posizione regolare Rocchi Riguola il pallone Rocchi Posizione regolare Fino in fondo Sinistro Piazzato Un'occasione per uscire Attenzione Grande palla per Rocchi Nelle di rigore Rocchi Corri in pallo Trova il gol dell'1-3 Contano per le formazioni Poco i numeri Claudio Per il resto contano Pareggio Palla dentro per Rocchi 2 a 0 Zarate continua a fare il panico In mezzo al campo Attacca tutta la difesa schierata Zarate 1 contro 4 Zarate Può anche calciare Dalli Zarate Curci E poi Curci due volte Anche sull'Ingsteiner Ancora Lazio Rocchi Allargare Pallone interessante per Radu Possibilità per la Lazio Attenzione Occhio a McNee Che mette dentro Rocchi Attenzione a Pandev Pandev ancora Limite dell'area Rocchi E sono tre Aspizione che decise la partita Attenzione Rocchi 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 Ledesma C'è Rocchi Servito Rocchi Nelle di rigore Rocchi 1 a 1 Però Matusalem è per primo sulla palla Poi Pandev Matusalem è Rocchi Rocchi È in area E c'è il vantaggio Della Lazio Solo Rocchi Rocchi parte da solo Dimenticato dai giocatori del Napoli Rocchi Rocchi si gira Rocchi Parta il tiro Rete Rocchi Centro capo ma soprattutto È stato importante per l'azione d'attacco Del Rocchi Rocchi Pallonetto Rete Ancora foggia Palla dentro per Rocchi Posizione regolare Rocchi a tu per tu Rocchi Tommaso Rocchi Baronio Palla dentro per Rocchi Posizione regolare Rocchi Tommaso Rocchi Si assumerà una posizione Leggermente più ametrata Già adesso lo fa Figuriamoci con il Si gira Rocchi Bellissimo Che bella partita In campo Rinforzi del mercato di gennaio Biava André Dias Naturalmente c'è anche Floccari Qui va dentro Rocchi 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 Poi ancora Zarate Zarate in area di rigore Zarate il tocco dietro Rocchi 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 Il tiro Rocchi Rete Lanzi in vantaggio Palla dentro per Mauri La sterzata Per entrare sul sinistro Per rialargare Ancora per Kolarov Palla dentro Rocchi Non tanto anche Rocchi Stavano in avanti Rocchi Prova il pallonetto Splendido gol di Rocchi Punta anche quando giocano Attenzione qui C'è il lancio per Rocchi Controllo Rocchi 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 Gol di Rocchi Di grandissimo egoismo di Michele Si era liberato perfettamente Attenzione C'è spazio per Rocchi In area Rocchi Rocchi può calciare Rocchi Rocchio a close Un momento di close Poi scarica per Rocchi Sempre molto altruista La deviazione Cose a che voglio Riveli attenzione Eh si perché c'è Mario in area di rigore Ancora Mauri Fino in fondo Rocchi Eccolo qui Il gol del capitano Per migliorare il famoso ranking UEFA Delle scuole italiane A occhiettanto a Rocchi In area di rigore Rocchi Eccolo qui E sono 99 Le desba dentro Per Rocchi La salva Ragazzi E poi Rocchi 100 gol Con la maglia della Lazio Lo voleva Lo ha trovato Finta di Hernanes Ancora in destro di Le desba Rocchi 2 a 0 Rocchi 2 a 0 La Lazio ha raddoppiato Al ventitresimo Del primo tempo Tommaso Rocchi È a quota 101 gol Le desba Insiste Rocchi Non si ferma la Lazio Continua a giocare Ancora Rocchi Va da solo Al limite dell'area Aperto verso Gonzales Ancora a terra Le desba Gonzales dentro Rocchi 3 a 0 La rocchietta Di Tommaso Rocchi L'ha cominciata E l'ha finita lui 3 a 0 Al ventisettesimo Gol Numero 102 Con la maglia della Lazio È ora di aggiornare la statistica Sisse Largo a sinistra Si accentra Il francese Vede Rocchi Libero in area Ma non è messo a terra Bravo Il capitano La conclusione di sinistro Rimpallo E la rete della Lazio Il raddoppio di Tommaso Rocchi Right foot Rocchi Scores For Lazio Hits the right notes And it's 1-0 On the half hour And Lazio Have been the more Attacking side Great run And for the other Half an hour Not so As Lulic Pulls the ball Back Rocchi Rocchi Scores For Lazio No